Ben trovati, allora meglio tenere sempre gli occhiali sempre accesi anche al buio, anche con la pioggia perché questa sosta per le nazionali è già cominciata con il piede sbagliato e mi riferisco al fatto che Bastoni ha dovuto lasciare il ritiro dell'Under 21, un problema, un infortunio per lui adesso aspettiamo gli accertamenti per capire bene di che cosa si tratti però non è neanche iniziata e già si palesano i primi problemi, anche Lautaro Martinez non sta benissimo e appena arrivato a Marbella con l'Argentina è stato subito sottoposto a un'altra risonanza magnetica dopo quella di sabato notte all'Humanitas per verificare insomma che questo trauma cranico questo colpo che ha preso dal portiere del Verona Silvestri non abbia lasciato conseguenze non tutto negativo anche qui però continuerà a lavorare a parte per due giorni non giocherà la prima amichevole e vedremo se poi scenderà in campo e supererà questa tramvata che ha subito siccome però meglio non rischiare aspettiamo l'evoluzione dei prossimi allenamenti di quello che accadrà nei prossimi giorni con le dita incrociate perché sicuramente non comincia bene questa sosta per Antonio Conte che intanto è stato in Arabia ospite per far capire insomma come sono le sue metodologie di allenamento ha sparato anche un mai dire mai molto gentile nei confronti di chi lo intervistava per un suo futuro negli Emirati o ad allenare in quei paesi che di solito corrispondono molto bene per gli allenatori barra giocatori europei che a fine carriera decidono di svernare a quelle latitudini un Conte che però dovrà rimanere con le dita incrociate fino a che non torneranno tutti i suoi 12 nazionali intanto rientrerà subito alla base Pirola con gli altri azzurrini che purtroppo nella notte non ce l'hanno fatta a battere il Brasile hanno perso 2-0 e quindi rientrano alla base con comunque questo prestigioso quarto di finale ai mondiali Under 17 conquistato dicevo 12 nazionali in giro per l'Europa e massima attenzione soprattutto all'attacco perché con gli infortuni di Politano che ne avrà ancora per un mese e di Sanchez gli uomini sono quelli lì e quindi Lukaku, Lautaro Martinez che già ha preso questo colpo alla testa e poi anche attenzione a Sebastiano Esposito che è stato convocato nell'Under 19 brucia le tappe il gioiello nerazzurro che vedremo se dopo il rientro ad Appiano Gentile avrà anche l'occasione di esordire dal primo minuto per l'ennesimo Tour de Force che attenderà i nerazzurri dopo la sosta per proiettarsi fino alle vacanze di Natale con le due sfide di Champions molto importanti tra Slavia, Praga e Barcellona per sperare in un risultato positivo nella sfida tra Barcellona e Borussia Dortmund e mantenere diciamo accese le speranze nerazzurre di andare avanti in Champions League mercato, mercato si muove però mancano ancora 50 giorni alla riapertura delle liste del 2 di gennaio però l'Inter vuole accontentare Conte con diciamo un rinforzo per reparto Darmian per la difesa a centrocampo piace molto Kuluseschi alternativa Matic, Vidal solo in prestito questi sono i nomi, Kuluseschi il Parma non lo vorrebbe cedere però attenzione alla grande amicizia che c'è tra Antonio Conte e il direttore sportivo del Parma Faggiano, amici di infanzia, chissà che non possa veramente fargli un regalo cosa che difficilmente farà il Chelsea con Giroud essendo ancora in causa Chelsea e Antonio Conte per il pregresso ma vediamo se qui Marotta e Ausilio riusciranno a superare queste problematiche e a dare a Conte subito dei rinforzi importanti anche se possiamo dire che nelle ultime due partite Vecino ha cambiato un po' quella che è la sua situazione due gol in due partite, due buone prestazioni ha dimostrato insomma di voler recuperare il terreno perduto e nonostante anche tanti di voi lo critichino comunque è stato positivo, ha dato l'ala a rimonta con il Verona deve ancora crescere per me in fase di interdizione come vorrebbe Conte lo vorrebbe più cattivo ma può essere un'alternativa importante che Conte pensava insomma di avere un po' perso per strada ma diciamo che può essere comunque anche lui uno dei rinforzi per Conte aspettando che questa sosta gli restituisca Gagliardini e Asamoah che stanno meglio e anche Sensi che dopo la seconda ricaduta non così grave come le prime due però sfrutterà questa sosta domani si torna a lavorare da piano gentile dopo tre giorni di riposo per ritornare in gruppo e superare tutte queste sue problematiche muscolari che spesso anche ha accusato nel corso della sua carriera avendo un fisico così brevilineo diciamo che è più soggetto a problemini fisici di questo tipo mercato dicevamo difficile che il Chelsea faccia un favore a Conte però Giroud vuole conquistarsi gli europei sta giocando pochissimo potrebbe essere quindi lui il rinforzo per l'attacco si parla anche di De Paul dell'Udinese che però è in piena lotta a salvezza rischia la retrocessione e anche qui non sarà facile cercare un prestito Vidal è il preferito di Conte però al momento l'Inter lo prenderebbe solo in prestito anche perché ha 32 anni mentre il Barcellona intanto non lo vuole cedere se no chiederebbe comunque una cifra superiore ai 30 milioni cosa che non è preventivata in casa nera azzurra nonostante la cessione di Gabigol che continua a segnare addirittura ha eguagliato il record di 21 gol con la maglia del Flamengo di Zico e quindi l'Inter adesso vuole di più chiede di più al Flamengo e aspetta offerte importanti come quella dello Schalke 04 che si avvicina quasi ai 30 milioni per diciamo vendere Gabigol così ritornato sugli scudi dopo le fatiche europee dopo aver rischiato insomma di perdersi per strada tra Milano e anche il Portogallo col Benfica sicuramente non aveva fatto bene anche lì si è ritrovato in Brasile adesso l'Inter vuole monetizzare o recuperare i soldi spesi per il suo acquisto tre estati fa quindi aspettiamo di vedere che cosa accadrà intanto però l'Inter cerca dei rinforzi anche per l'attacco anche la Spal non vuole privarsi di Petagna che è il terminale offensivo principale della squadra di Semplici come ha detto Marotta l'altra sera il mercato di gennaio spesso è avaro non dà grandi opportunità per chi vuole rinforzarsi anche qui dovremmo aspettare qualche colpo di Marotta e di Ausilio che ci stanno lavorando che l'altra sera Ausilio era a vedersi la partita di Kuluseski e ha impressionato ancora molto molto piace e vedremo se anche qui l'Atalanta società amica girerà farà una buona richiesta che l'Inter così potrà soddisfare quello che invece sono le richieste di Antonio Conte andiamo a dare uno sguardo ai giornali dove solo il Corriere dello Sport ha il coraggio di parlare del caso Ronaldo in termini un po' diciamo allarmistici io sono io in prima pagina del Corriere dello Sport la foto a tutta pagina di Cristiano Ronaldo che non chiede scusa un post diciamo su Twitter per chiudere la sua sfuriata poi il volo in Portogallo per il club va bene così nessuna multa niente scuse alla Juve ritorsioni sul Napoli la procura apre un fascicolo sull'irruzione in casa Allan e sui danneggiamenti all'auto della moglie di Zilischi attenzione anche alla situazione polveriera Napoli con De Laurentiis che potrebbe già vendere a gennaio Calerone Mertens Allan i capi rivolta azzurri anche questa è una situazione che l'Inter dovrà monitorare Cristiano non chiede perdono Sarri più popolare dopo la tempesta ma tutti lavorano per ricomporre niente scuse nessun provvedimento del club e un dubbio giocherà con la sua nazionale in apprensione anche la Juve per le condizioni del suo ginocchio insigne Mertens Higuain è il segno del comandante nessuno scrupolo per Sarri Di Bala tutta un'altra storia andiamo alle parole alle pagine Nerazzurre Kuluseschi dopo De Paul Conte raddoppia il gioiellino svedese ammirato nel Parma il colpo per giugno Castrovilli della Fiorentina la prima alternativa qui si sottolinea appunto il fatto che il Parma non se ne priverà a gennaio del giocatore che sta facendo così tanto bene e poi tre gare in sette giorni e un assist ora anche Lazzaro è dentro l'Inter lanciato al momento giusto punta la terza gara di fida dal primo minuto ricordiamo contro il Torino si riprenderà con la difficile sfida contro la squadra di Mazzari che si è ripresa nelle ultime settimane guardiamo anche la Gazzetta dello Sport che invece ha tutta un'altra visione del caso Ronaldo già superato per la Rosia in prima pagina infatti c'è la foto chiaramente di Cristiano Ronaldo il Cristiano pentito per la Gazzetta anche se di scuse non sono arrivate si aspetterà comunque un chiarimento anche con la squadra che sicuramente non ha preso bene il fatto che Cristiano abbia lasciato lo stadio ancora prima della fine della partita con il Milan il Cristiano pentito dopo la sostituzione contro il Milan prove di disgelo tra il fuoriclasse e il suo allenatore Ronaldo sui social spegne la polemica una vittoria importante la Juventus non lo multerà ma al ritorno al Portogallo si aspetta un chiarimento nello spogliatoio e poi in prima pagina interattacchi in Europa è l'unica a segnare sempre il tesoro Gabigol prende il mitico Zico Sarri Ronaldo pianeti distanti prima del cambio ma il campione tende la mano questa è l'interpretazione della Gazzetta che butta acqua sul fuoco caratteri e metodologie di lavoro diversi tecnico CR7 a caccia del giusto equilibrio il portoghese smorza i toni sui social e adesso testa solo al campo col Portogallo per ritrovare il sorriso però attenzione a quel problema al ginocchio insomma linea morbida Juve ma anche della Gazzetta CR7 niente multa chiarirà col gruppo nello spogliatoio Piaratici lo chiamerà la società non ha gradito i compagni si aspettano le scuse e poi Gol Machine una pagina dedicata all'Inter Icardi così l'Inter attacca la Juve la rivoluzione di Conte più marcatori dei bianconeri con Lukaku top in Europa e il tecnico vola a Dammam lezione agli allenatori sauditi Antonio Conte insieme al fratello Daniele è salito in cattedra a Dammam accolto in grande stile all'aeroporto Conte ha spiegato le sue metodologie di lavoro a molti colleghi sauditi in passato in Arabia erano andati per le stesse ragioni anche Fabio Capello e Giuseppe Maurigno e presto ci andrà anche Guardiola Conte tornerà oggi in Italia stasera domani la ripresa ad Appiano e poi Gabi Tantigol una pagina dedicata al personaggio del momento Gabi Gol che ha raggiunto come dicevamo 37 reti del 2019 ma non tornerà in Italia intanto viene citato pure da Bolsonaro raggiunto il mito Zico Venturretti in campionato un bel tesoretto per i nerazzurri che però hanno bisogno di un attaccante e qui tanti di voi mi chiedete perché l'Inter che dispone del cartellino del giocatore non lo richiama vista l'emergenza che c'è in quel reparto domanda da girare alla dirigenza nerazzurra prima di chiudere vediamo anche non possiamo oggi non leggere tutto sport per vedere come viene analizzato interpretato il caso Ronaldo che chiaramente per tutto sport non è neanche un caso addirittura si fa uno studio del labiale esclusivo Sarri CR7 la verità vi svegliamo cosa ha detto Ronaldo al momento della sostituzione del match con Milan nessuna multa dalla Juve che è in ansia solo per il ginocchio per il doppio impegno con la sua nazionale c'è anche una foto in cui mostrano la piccola fasciatura la gamba destra l'ansia Juve solo per ginocchio e nazionale il collaterale continua a dare fastidio limita a Ronaldo le due partite con il Portogallo possono essere un rischio ecco la verità dall'inizio niente multa dal club chiarirà con la squadra i compagni non si sentono particolarmente offesi Ronaldo li ha elogiati via social network e poi la giusta lettura dell'abiale Ronaldo non insulta Sarri ma impreca e dice vediamo cosa hanno detto non è un vaffanculo in versione portoghese un vaffa scusate perché poi bisogna mantenere dei toni decenti neanche un'offesa per Sarri ma è un'imprecazione insomma chiude così il caso Ronaldo tutto sport quindi bypassiamo tutte queste pagine ma andiamo all'Inter Marotta prepara un gennaio di fuoco sono tre in arrivo Vidal Giroud e Darmian con i soldi che verranno incassati dalla vendita di Gabigol l'Inter è pronta ad accontentare Conte rinforza centrocampo in attacco e si serve anche sulla fascia sinistra Duncan è l'alternativa a Vidal se il Barcellona non dovesse aprire al prestito come ci sembra abbiamo detto molto difficile poi anche la trattativa per Giroud non sarà facile un mercato di gennaio che sicuramente avrà tante problematiche ma noi adesso rimaniamo con gli occhiali sempre accesi perché insomma questa sosta delle nazionali può essere non deve essere come la precedente che portò in dote gli infortuni di D'Ambrosio e di Sanchez speriamo che per bastoni non ci sia nulla di grave mi raccomando iscrivetevi al canale e rimanete sempre sintonizzati grazie a tutti